Carissimi fratelli e sorelle, la grazia del Signore che da sempre regna in mezzo a voi. Voi siete oggetti della grazia, della benevolenza di Dio. Dio vi ama come figli e vi ama in una maniera eterna. Non vi ama temporaneamente, vi ama eternamente. E ha sancito questo amore con un patto di amore, col sangue prezioso di Gesù sparse sulla croce a indicare che passeranno cielo e terra, ma la sua fedeltà non verrà mai meno, il suo amore per noi non verrà mai meno. L'uomo può stacolare questo amore di Dio, lo può stacolare, rifiutandolo coscientemente, volutamente, ma lui si mantiene eternamente fedele verso di noi, per cui in ogni istante possiamo alzare lo sguardo a lui ed esultare di gioia e rallegrarci, come ci invita a fare oggi il profeta. Rallegrati, esulta figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed è dimorerà in mezzo a te. Gerusalemme, fratelli, è composta di una Gerusalemme terrena a quella che sta in Israele e l'altra celeste, spiega San Paolo nella lettera ai Galati, che è figura del popolo di Dio che arriva alla gloria. E voi vedete come il Signore invita tutti i popoli della terra a far parte di questo popolo suo, a entrare in questa Gerusalemme celeste. E questo avviene per la fede in Gesù. Nel Vangelo, infatti, troviamo Gesù che dice ai Suoi discepoli, il figlio dell'uomo, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriosi che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Ma Gesù diventa sempre più esplicito nel Vangelo nel rivelare ai Suoi discepoli che Lui è venuto ad amare, amare l'umanità. In che modo? Dando la vita, amare fino all'estremo. Cioè non c'è ostacolo che possa impedire a Gesù di amarci. Neanche la morte, neanche davanti alla morte Lui si arrende, neanche davanti alla passione, tendendo a si tirare indietro. rimane fedele a noi, a significare che ci rimane fedele in eterno. È una verità stupenda, fratelli, che dovremmo contemplare giorno e notte e lasciare che lo Spirito Santo ci immerga in questa realtà. Non c'è soltanto l'eternità dell'amore, ma c'è anche l'abbondanza dell'amore. Fino a che punto Dio ti ama? Fino a dare la vita per te. Tu sei la cosa più preziosa agli occhi Suoi. E noi dovremmo passare le giornate veramente a contemplare questa ricchezza, questa bellezza di amore. L'uomo tante volte preferisce perdersi dietro le cose passeggere, tante volte anche dei pianti, corrotte, allontanando Dio dalla propria vita. No, lo sposo della nostra anima si chiama Gesù. e il padre della nostra vita si chiama Dio e noi gli apparteniamo. Ecco della promessa che il Signore fa a noi tutti per mezzo del profeta Zaccaria. Dice, vai a dire a quel giovane che un giorno Gerusalemme non avrà mura. perché dovrà accogliere tanta di quella gente che le mura dovranno essere scavalcate, perché è grande la moltitudine di coloro che Dio vuole introdurre nella sua casa. E questa è la promessa che la Chiesa deve vivere oggi, fratelli, mentre il mondo è minaccioso da una parte. E' minaccioso perché Satana è minaccioso. Come tante volte ha detto la Madonna a Međugorje, Satana vuole distruggervi. Bene, il Signore presenta davanti a noi quell'altra visione, la Gerusalemme celeste, la Gerusalemme creata da Dio, quella rigenerata nel battesimo, quella rinnovata nella parola di Dio, quella lavata nel sangue di Gesù. Chi sono costoro? Viene chiesto a San Giovanni nell'Apocalisse quando vede una gran moltitudine di persone, Signore Dio tu lo sai, e la voce sono coloro che hanno lavate le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ecco i redenti, sono coloro che hanno lavate le loro vesti nel sangue dell'agnello e hanno dato testimonianza con il loro martirio, cioè hanno affrontato le difficoltà della vita fino alla morte. Quanti martiri sono stati nella storia della Chiesa e quanti martiri ancora oggi i fratelli sono perseguitati e si lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Ecco allora le parole del salmista. Ascoltate, gentile, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane dite, chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, Sion è il conno più alto della città di Gerusalemme, e vedranno insieme verso i beni del Signore. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. E queste parole sono particolarmente attuali oggi, fratelli. E il Signore a questo ci vuole spingere a fissare lo sguardo su quel piano divino che vuole la redenzione di tutta l'umanità. Perciò torniamo al Signore, torniamo al Signore, il nostro Dio. Torniamo al Signore, come dice il profeta Osea, Egli ci ha percorso ed Egli ci guarirà. Torniamo al Signore, perché Egli ci accoglie con benevolenza, come il padre del figlio del prodigo, Torniamo al Signore, invitiamo tanti a tornare a Lui, fratelli. Costi quello che costi, torniamo al Signore, perché la Sua parola è verità e le Sue promesse si realizzano. Signore Gesù, Tu sei il compimento di ogni promessa di Dio. In Te ogni promessa di Dio è diventata sì. In Te ogni parola di Dio è realtà. Tu sei la parola fatta carne. Sei l'amore di Dio donato a noi. Sei il Salvatore potente venuto a dare la vita, a riscattarci dal potere di Satana, dal potere del peccato. col Tuo sangue sparsa sulla croce. Tu sei l'Onnipotente. Davanti a Te si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra. E ogni lingua proclama che Tu sei il Signore, a gloria di Dio Padre. Signore Gesù, manifesta oggi la Tua Onnipotenza. Vieni, soccorri il Tuo popolo. Guarda questa umanità smarrita, a questa umanità che brangola nel buio, che è seduta in molti modi da Satana, con beni fallaci, che ingannevoli, che conducono alla morte. Signore Gesù, dà gloria al Tuo nome. Manifesta la Tua potenza, col Tuo Santo Spirito, dà convimento alla promessa del Padre, che Tu ci hai rivelato. Tutti sarete battezzati nello Spirito Santo. Manda su di noi lo Spirito del Tuo amore. Facci contemplare la grandezza di questo amore, l'eternità di questo amore, l'universalità di questo amore, che include ogni creatura sulla terra. A Te Gesù gloria, onore, potenza, dodo e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E Tu Vergine Santissima, che hai affiancato Gesù nella Sua vita, lo hai affiancato dandogli la vita, lo hai affiancato nella passione, nella Sua morte, nella Sua risurrezione. Oggi sei accanto a Lui nella gloria, unita a Lui nello stesso Spirito. Lui ti fa condividere la Sua gloria e ti ha destinato ad essere Regina del Cielo e della Terra. E noi ci rivolgiamo a Te con fiducia. In Te vediamo il compimento di ogni Sua parola. Tu sei per noi un faro. Sei la stella che brilla nella notte, anche in mezzo alla tempesta. Tu fai brillare la Tua luce per il Tuo popolo, guardando a Te, come ci dice San Bernardo, torni a vivere e a sperare. Vergine Santissima, oggi soccorre la Chiesa e muove il cuore di tanti uomini per tornare a Gesù e ad accoglierle come Signore e Salvatore. E tutti noi, fratelli, oggi diamoci da fare per invitare tanti a tornare al Signore. Facciamolo prima di tutto con la preghiera, secondo luogo facciamolo con la benevolenza, guardando il fratello peccatore, non giudicarlo, ma avvolgerlo nella benevolenza di Dio, quella benevolenza che Gesù ha dato sulla croce. Si comunica al peccatore attraverso di Te. Se non l'hai fatto, fallo. Se vedi una persona e l'hai giudicata, rientri in Te stesso, chiedi perdona al Signore e dono misericordia, benedizione a quella persona, perché Dio vuol condurre tanti uomini alla Sua Gerusalemme attraverso il Tuo contributo, attraverso la Tua chiamata e la Tua azione. Queste parole del profeta Zaccaria, vai a dire a quel giovane, quel giovane sei tu, quel giovane sei tu, l'oggetto, il destinatario di quella promessa, per Te quella promessa. Accoglile oggi e lasci ti avvolgere e coinvolgere da questa promessa di Gesù. Allo gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen.